Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono code in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. In A11 in direzione Firenze è chiusa l'area di servizio di Migliarino Sud per lavori. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Sulla statale 67 Tosco Romagnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve, statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!